Oh, che fai? Che facendo? Sto facendo un gigante. Esatto. Ma che stai a... Ok, allora ce la chiuscola. Fai micro, micro, micro. Pomerina, guarda, diventata microscopica. Wow. Forse è questo... La cioccolata kinder è oltre un altro pianeta. Il Diario Incantato è il mio nuovo libro. È un'avventura in un mondo magico che si basa su amicizia, colpi di scena, misteri e dal 10 novembre in tutte le librerie. Ciao, bentornati. Io sono Barbara. Io sono. E oggi ci andiamo ad aprire due uova di Pasqua. Cioè, almeno quello suo è un uovo di Pasqua. Il mio è... Fracassato. Non ho fatto la Butterflip Challenge. Beh, è proprio cascato. Prima, un secondo fa è successo questo. Quindi non è più un uovo. È diventato... Malloppo. Esatto. Il malloppo di Pasqua. Comunque, vabbè, vabbè, è lo stesso. Tanto va rotto per poterlo mangiare. E arriva. Allora, questo è qui, qui, vedete un esemplare di gattino. Lei sembra un cane, ma in realtà, come salta sulle gambe, sembra un gattino, perché arriva proprio precisa, vero? È il gattino, lei. Vabbè, però non è il momento tuo. Queste sono le uova di cioccolata e la cioccolata non è per te. Ciao. Esatto. Ok. Prendiamo le nostre uova. Vuoi provare? Tu vuoi fare la Butterflip Challenge? Ok. Normalmente? Sì. Vuoi provare? Vai, prova. È il mio è inutile, perché non sa... Cioè... Tegliamo le cartellie di Godzilla. Vediamo la Mamma Pig, vai. No, ce l'ho quasi. Oh, questo l'ho vinto. Cioè, questo era quasi perfetto. Però io... Ancora intero. Provaci. Non c'è Mamma Pig. Provaci, ce la facevi, secondo me. Ok. Mamma Pig ti guarda, dai. Ok. Ho quasi messo il computer. Ecco, evitiamo. Niente. No, io dovrò lì chiedere, perché non ci riesco. No, più forte. Ok. Vai. Sono fatto di legno, perché non si rompe. Oh, va bene, basta. Va bene, dai. Ora abbiamo dopo questo, lo mettiamo Mamma Pig. Mamma Pig è lì che ci guarda. Ok. E andiamo ad aprire. Allora, uovo. Sempre 30, per esempio, sempre di cacao. Il mio è pesa 280 grammi. Mentre il tuo, quanto pesa? Tranquilla. Prefetto da leggere tutti quei scritti. No, ma c'è due cose che mi picchi negli occhi. Pov. 220 grammi. Questo qui è uovo Kinder, questo qui è uovo normale al latte. Ah, uovo, ho trovato solo ora lo scoccio, questo qua. Io ho trovato già la sorpresa. Che bello, si fa sfracellare le uova prima di aprile che provi subito la sorpresa. Guarda come è fatto. Che bello. Oh, non so trovo, cioè, 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 la possiamo fare dal quinto piano a sabato. Cioè, non serve, cioè, se è poco poco crepato qui, ma poco, è di cemento armato. Cioè, l'avete visto le botte che ha dato? Si è rotto il mobile. Ok, vado. Eh, io ti consiglio di andare nella crepa. Ah. Oh, che fai. Wow. Forse è questo, forse è questo un pochino per cui non si spacerà. Ragazzi, la cioccolata Kinder, la cioccolata Kinder, cioè, va bene tutto. Ma la cioccolata Kinder, la cioccolata Kinder. Kinder è oltre un altro pianeta. C'è il cioccolato e, bah, oh, c'è il cioccolato, c'è ancora, vinci, e c'è il Kinder, il Kinder, ecco. Allora. E la due cose. Così, schiaccia finché non lo apri. Mentre io ho trovato questo pacchettino, in quello del LOL. Si riesce di umore? Sì, tranquilla. Vai, vai con calma. Di qua, cioccolato di qua, bientino. Allora, beh, ferma, ti aiuto, dai. Allora, sono tre sorprese. Ho studiato. C'è il cofanetto dei Kwame, quello che tiene il maestro Fu. Poi c'è il cofanetto di Marinette. La casetta, che è un portapenne. E quest'altro portapenne che ha una parte che si trasforma in braccialetto. Tutti quanti hanno una ladybug con varie pose. Tutti quanti. Vediamo. Forse è più quella col bracciale, mi piace. Vado, spizzo? Vai. Sì! È spezzata in due. È rotta. No, vabbè, da mentale. Finito male. Questo altro pezzo. E questo altro pezzo. Allora, qui poi c'è questa roba qui. Tu non lo sai. Che cosa non lo so? C'è un'app fighissima. Sì. E dopo lo facciamo? E le ladybug diventa... Diventa... E dopo lo facciamo? Diventa cosa? Dopo lo... No! Monta, monta. Monta tutti. Ma andiamo a vedere l'altro. Sembra un braccialetto. Visto così. Ma le cose delle loro sono estremamente evolute. Mi ricordo che il primo anno c'erano solo tanto gli adesivini. C'era veramente tutto nuovo. Poi le cose sono sempre più ampliate. Ah, mappa che carino. Oh, mappa che carino. Ma guardate quanto è bello, Lara. Bello. È bellissimo. Ma che carino è. E c'è al ciondolo con Roger. Ma quanto è bello. È bellissimo. Tra l'altro, super di moda. Perché quest'anno vanno tantissimo i braccialetti con le pelline di achilico. Pazzesco. Carinissimo. Bello proprio. Allora si apre il cartoncino. E qui c'è il braccialetto. Vediamo se è elastico oppure... Sì. È elastico. Guardate che carino. Così vi faccio vedere anche quest'altro mio. Guardate quanto è bello quest'altro. Che l'ho fatto io. L'ha fatto Lara con scritto TP Team. E ha usato i nostri cofanetti delle pelline. Bello, ho messo il link in descrizione. E ne hai fatti anche un'altra secchiata. Vabbè. Però si diverte. Hai montato questa sorpresa? No. Perché non ci riesco. Facciamo così. Montiamola in un momento. Come era dall'alto. Pellicolina bella. Preciso. Ce la fai a metterlo preciso? Preciso. Metto un attimo così perché se no lo metto storto. Eh no. Eh no. E che bello. Una cattina. Una cattina. Ok. Ce l'ho fatta. Bravo. E poi dove vanno gli altri due? Eh... Allora. Questo penso che vada sul cassetto. Vero. Ha un senso identico. Quindi direi che lo mettiamo così o cosà. È la stessa cosa. Contato qui c'è un intarzio cinese. E qui ci sono... C'è il disegno tipo legno. Qua dietro c'è questo specie di rettangolino. Che se uno schiaccia ti apre il cassettino. Qui davanti è scompartato. E nel cartone e dentro qui ci sono i vari... Miravolus. Vero Lara? E questo qui è quello che sta a casa del maestro... Come si chiama? Maestro Fu. Il maestro Fu. E la nostra Ladybug può stare in questa posizione. Vedete? Sta in piedi ma un po' appoggiata. Molto bellino. Bella come posa. Bella. Sei installata. Ecco. Vai sopra. Esatto. Devi accettare, penso. Sì. Hai una carta da scansionare. Allora devi fare lo scan alla carta. Dove c'è il QR code. Ecco. E guarda che succede. Cosa succede? Aspetta, sento i rumori. Scatta una foto, ok. Wow. Puoi vedere tutte le sue foto qui. Ok. Cos'è? Vediamo. Ah, c'è un gioco. Sì. Allora. Ok, devo saltare. Ok, verso. Bello. Che fisso, ha fatto la ribaltata. Esatto. No, ho perso. Acume dappertutto. Il coniglietto. È da 5. Guarda, c'è Ladybug che sta parlando con mamma pig. Ecco bene. Stai facendo? Stai facendo gigante. Esatto. Ma che stai a... Ok, allora c'è un figliuscolo. Fai micro, micro, micro. Ma buono, mi rile. Guarda, è diventata microscopica. Così sembra la nostra. Guarda, si è proprio messa al posto della nostra. Guarda. Quindi abbiamo fatto diventare vera la nostra Ladybug. Allora, reso conto. Bella questa sorpresa. Mi piace molto che c'è doppia sorpresa. L'app è bellissima. L'app è carina, devo dire. Il fatto che c'è il giochino è piacevole. Poi anche la realtà aumentata con Ladybug che si va a sostituire a quella di plastica. È carino. Il braccetto delle LOL mi è piaciuto un sacco. Soprattutto è una sorpresa nuova. Non si sono mai visti. In genere c'erano quelli con la catenella. C'erano delle cose un po' riviste. Invece questo qui è estremamente attuale. Cioè è molto di moda. Quindi bello pure questo qui. Ovviamente le sorpresi del Kinder sono pazzesche. Com'è pazzesca la cioccolata. Però sono uova anche di fascia. Pazzesca, vi ho ricordato. Piantala di mangiare cioccolata. Sono comunque uova molto più costose. Ora, non so il prezzo di quello di... Di le LOL perché mi è arrivato da dolci preziosi. Ma quello grande dovrebbe stare intorno ai 7-8 euro. Mentre invece questo ne costa tipo 15. Bene. Grazie per aver visto anche questo video. Noi dopo Pasqua ci metteremo a dieta. E faremo la recensione della cicoria e della dieta. E invece sì. Un bacio a tutti quanti. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao.